Nato a Roma nel 1890, fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo come cantante lirico, per rivolgersi subito dopo al mondo della prosa teatrale. Debutta infatti come attore giovane nella compagnia di Ermete Novelli, per passare a recitare con Amedeo Chiantoni e Antonio Gandusio. Negli anni venti è sul palcoscenico con Annibale Betrone e Alda Borelli. Per diventare titolare della compagnia Capodaglio, Campa, Giorda, sino ai primi anni trenta, dove recita con Emma Grammatica, poi con Olga Solbelli, in una serie di spettacoli gialli. Il debutto nel mondo del cinema lo vede impegnato ai tempi del muto in alcune pellicole minori, sino al suo primo film sonoro diretto da Giovacchino Forzano. Nella pellicola Campo di Maggio del 1935, alla fine degli anni trenta Leijar, gli offre la possibilità di lavorare in alcune commedie radiofoniche, attività che prosegue anche nel dopoguerra in forma saltuaria. Più importante la sua attività nella prosa televisiva Rai, che lo vede impegnato sin dall'inizio delle trasmissioni regolari del 1954. Muore prematuramente nel 1960. Era sposato con l'attrice Maria Pia Benvenuti.